Inaugura sabato 26 marzo alle ore 18 la mostra Vag del pesarese Renato Bertini, la cui pluridecennale creatività artistica sarà apprezzabile fino al 15 maggio al centro Arti Visive Pescheria divisa fra il loggiato e la chiesa del suffragio. Vag come onda e come vago, doppio senso di instabilità e aleatorietà che rappresenta la cifra stilistica di tutta la ricerca artistica di Bertini. Classe 1939 Bertini porta in pescheria opere pittoriche incentrate sui temi del corpo e del paesaggio intesi come elementi della natura e come energia esplosiva. Una natura che Bertini racconta come minima, pulsante e contraddittoria in un viaggio intimo che si annoda alle emozioni dell'artista. Veramente una sorta di carta bianca e prima di Bertini abbiamo avuto Vangi, poi di piattella ai quali allo stesso modo è stato dato a disposizione questo spazio straordinario composto dal punto di vista architettonico da un loggiato che era il vecchio mercato del pesce e da una chiesa secentesca che era la chiesa del suffragio. Due spazi molto diversi tra loro perché uno longitudinale e l'altro centrifugo in cui l'artista ha veramente espresso anche una sua dote da disegnatore architettonico. Dunque vediamo che degli elementi proprio dell'allestimento che Bertini ha pensato sono davvero dei segni importanti di architettura. Non è un'antologica ma è una mostra che percorre tutta la carriera di Bertini ma non in senso cronologico. Il tempo delle opere è davvero sincopato e segue piuttosto una narrazione interna all'artista che ha fatto della natura il suo elemento di ispirazione come molti artisti di Pesaro hanno fatto in questi anni avendo un territorio straordinario composto ovviamente dal mare ma anche da un'introterra, da una natura che è assolutamente straordinaria.